Roberto Pighi, diciamo che la crisi nera non ha fine? No, non ha fine, non sappiamo cosa fare. Abbiamo le idee molto confuse tutti, siamo molto denusi, non si reagisce più. Ovvio che il problema della battuta non solo permane ma peggiora di partita in partita. Non ci sono elementi comportamentali, tecnici, tali da poter intervenire con provvedimenti non tanto di rinforzare la squadra che ci sembra anche impossibile in questo momento perché svincolati non ce ne sono al di là della volontà e della generosità. Onestamente di fare queste figure credo che sia davvero... scusate se parlo rallentato perché evidentemente ho tanta rabbia in corpo però ho visto una squadra molto diversa da quella che vedo tutte le settimane in allenamento molto diversa dalle promesse fatteci, molto diversa nella concentrazione anche con i valori di cui siamo consapevoli che abbiamo a disposizione. Non lo so, in questo momento abbiamo bisogno di trovarci e di capire se altri tipi di provvedimenti che non possono andare anche nella direzione tecnica devono essere immediati o quasi. Basta.